Il mio diritto preferito è il diritto all'uguaglianza e quindi alla non discriminazione, il che significa che tutte le persone devono essere considerate uguali anche se sono di sesso diverso, anche se appartengono a razze diverse, religioni diverse o se hanno un diverso orientamento sessuale. Significa che appunto ognuno di noi è considerato una persona indipendentemente dalla sua diversità. Il principio di uguaglianza quindi significa valorizzare e non discriminare le differenze. Uguaglianza nella nostra società poi così diversa significa proprio rendere tutti uguali ma nello stesso tempo riconoscere le diversità di ognuno. Mi chiamo Mari Elisa D'Amico, insegno diritto costituzionale all'Università Statale di Milano, faccio l'avvocato e attualmente sono consigliera comunale, presidente della Commissione Affari Istruzionali del Comune di Milano. Grazie a tutti.